Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Siamo nel 1988. Angela Telesca è una ragazza di 20 anni, originaria di Avigliano, in provincia di Potenza, in Basilicata. È davvero molto legata alla sua famiglia. Con i genitori e i fratelli si stabilisce a Torino, in zona Mirafiori, e lavora a ore presso due famiglie facendo le pulizie. Una ragazza normale, con sogni, aspirazioni e un fidanzato. Prende parte a un corso per pettinatrici, per ampliare le proprie prospettive di vita. Angela viene descritta come una ragazza semplice, allegra e sempre solare, che si fa voler bene. Inoltre, è una persona generosa, una gran lavoratrice, una ragazza seria e ordinata. Fa le pulizie presso un appartamento vicino a Porta Palazzo, una delle cinque parti del quartiere torinese Aurora, e anche presso la famiglia Luzzati. La sua dattrice di lavoro, Sonia Luzzati, conserva un bellissimo ricordo di Angela. Non è solo una ragazza carina esteticamente, ma anche interiormente. L'aveva conosciuta perché la giovane andava a stirare da un'amica, ed è stata proprio questa amica a consigliargliela. Angela lavora con impegno, precisione e puntualità. La ragazza è fidanzata da tre anni con un ragazzo di nome Nicola, che è diventato uno di famiglia, tanto che le porta i suoi abiti da lavare, l'accompagna a fare la spesa, e spesso si ferma a cena con Angela e i suoi genitori. Ogni mattina Angela si sveglia presto ed esce di casa per cominciare una nuova giornata di lavoro in casa Luzzati, il lungopo Antonelli. A volte prende il pullman, altre volte l'accompagna il suo fidanzato. Arrivata a casa dei Luzzati, la ragazza si cambia i vestiti, indossandone di più adatti e comodi per il suo lavoro. Lunedì 14 novembre 1988, Angela esce di casa, in Via Bovetti, a Mirafiori. Per andare a lavorare, prende l'autobus. Sonia Luzzati, incinta di sette mesi, e il marito Marco, si sono trasferiti da poche settimane nella casa nuova, in parte ancora ad arredare, al secondo piano di lungopo Antonelli, al civico 17. Quando Angela arriva all'abitazione, verso le 10, i coniugi sono già usciti e in casa non c'è nessuno. La ragazza non ha la chiave del portone esterno, quindi si fa aprire da un'inquilina del palazzo. Arrivano le 10 e 30. Angela riceve una telefonata da Sonia che le chiede di non stirare i panni già puliti, ma di fare un'altra lavatrice e di lavare i piatti. Angela chiaramente ascolta attentamente le richieste della padrona di casa. Mezz'ora dopo, verso le 11, arriva una telefonata da una delle zie di Angela. Insomma, quella della ragazza sembra una comune giornata di lavoro, come tante altre. Fino a quando, pochi minuti dopo le 11, qualcuno suona il citofono a casa Luzzati. Il citofono in realtà non funziona bene, questa è una cosa importante. Quindi Angela si affaccia dalla finestra e invita la persona che ha suonato a entrare in casa. L'uomo, quindi, e si presume sia un uomo, prende l'ascensore e sale al secondo piano. Arriviamo alle 13 e 20. Sonia Luzzati, che ricordiamo è al settimo mese di gravidanza, torna a casa, nel suo appartamento. Entra e nota immediatamente un secchio pieno d'acqua con all'interno lo straccio per pulire i pavimenti. E immediatamente pensa. È strano. Angela è molto ordinata. Non è da lei lasciare cose in giro senza metterle a posto. Camminando, arriva in fondo al corridoio e nota la porta del bagno semiaperta ed è l'acqua per terra. Così entra nella stanza e trova Angela nella vasca. È seminuda ed è immersa in circa 20 centimetri d'acqua. La testa della ragazza è fuori dall'acqua, ma i suoi capelli sono bagnati. È sdraiata sulla schiena e la testa appoggia alla vasca da bagno. Leggermente riversa sul lato e il telefono della doccia è appoggiato sul suo corpo. Sonia in realtà agisce distinto e inizia a chiamarla. Poi si avvicina alla vasca, afferra Angela e la tira fuori dalla vasca da bagno, cercando di rianimarla. È convinta che la ragazza abbia avuto un malore. Inizia a schiaffeggiarla, ma si rende conto che è fredda, quindi va nel panico. Gli indumenti di Angela sono sparsi sul pavimento e risultano bagnati. Inoltre il bagno è parecchio in disordine. Dopo aver cercato in vano il marito, Sonia chiama una sua amica, che fa il medico. La donna è molto spaventata e chiede all'amica cosa fare. La sua amica le dice di stare tranquilla, si sarebbe occupata lei di chiamare immediatamente l'ambulanza. Mentre attende che arrivi nei soccorsi, Sonia non riesce certo a tranquillizzarsi, quindi inizia a girare per casa. In questo modo si fa un'idea di cosa potrebbe essere successo. La donna entra in camera da letto e nota che anche lì c'è disordine. In realtà è il letto a risultare leggermente in disordine. Le coperte e le lenzuola non sono ben tese, nonostante sia stato rifatto. Di lì a breve arrivano l'ambulanza e l'amica che Sonia aveva chiamato per chiedere aiuto. Il medico non fa una vera e propria constatazione di morte. Non si accerta né del battito né della dilatazione delle pupille. Solo autorizza i barellieri a portare via Angela per condurla all'ospedale. I soccorritori dunque prendono Angela, la coprono con un lenzuolo e si recano al pronto soccorso seguiti anche da Sonia e dall'amica. La speranza è che Angela possa essere rianimata. Appena Marco, il marito di Sonia, riesce a mettersi in contatto con lei, ha una sola preoccupazione. Mettere al sicuro sua moglie. Si rende quindi immediatamente disponibile a rispondere a tutte le domande degli investigatori. Con l'arrivo in lungo po' Antonelli della polizia scientifica, che dà per certo che Angela sia morta a causa di un malore, c'è la terza versione della scena del crimine. E sarà proprio questo il problema. La scena del crimine nel giro di poche ore è mutata ben tre volte. Nella prima versione della scena, Angela è nella vasca da bagno. Nella seconda, è fuori dalla vasca da bagno. Nella terza scena, quella che si ritrova davanti la scientifica, Angela non c'è. Infatti l'ambulanza l'ha portata via, anche se era già senza vita. Quando avviene un delitto, di solito ci sono dei momenti di lotta, e quindi del disordine. Gli agenti della scientifica notano che la casa risulta abbastanza in ordine. A parte la cucina, ma resta un disordine abituale. Il letto risulta un pochino disfatto e ci sono dei segni che probabilmente sono dovuti a delle scarpe. Altri segni simili, ma forse riconducibili alle ditate di una mano, sono presenti sul muro del corridoio d'ingresso. Il punto è che la casa è stata appena ridipinta. Infatti, Sonia dice chiaramente che le pareti erano perfette. Sull'angolo inferiore destro del letto trovano una porzione di orecchino, l'altra viene trovata sul pavimento antistante il bagno. In cucina viene trovato un guanto in lattice sul tavolo e un portacenere con all'interno tre mozziconi. I luzzati non fumano, Angela però sì. L'altro guanto viene trovato nel bagno. Chiaramente la mancanza del corpo non aiuta. Manca l'elemento determinante per capire cosa sia esattamente successo. Gli agenti della scientifica però si rendono conto che c'è qualcosa di strano che balza immediatamente ai loro occhi. Alla sinistra della vasca da bagno sono appesi due accappatoi che risultano imbevuti d'acqua per oltre metà. Di solito, per abitudine, se una persona vuole farsi il bagno, la prima cosa che fa è spostare gli accappatoi per evitare che si bagnino. Notano inoltre che i vestiti di Angela sono posti in maniera cronologicamente errata. Gli abiti da lavoro risultano bagnati e sono sparsi per il pavimento e nel bidet. Insomma, solitamente chi si cambia per andare a dormire o chi si spoglia per farsi un bagno toglie i capi di abbigliamento con un certo ordine. Prima c'è la camicia, poi la canottiera, subito al di sotto della camicetta e infine il reggiseno. Questo dà l'idea di un ordine naturale, che in questo caso non c'è. Tutti i vestiti sono messi alla rinfusa, per terra c'è dell'acqua, così come nella vasca da bagno. L'acqua nella vasca risulta fredda e il boiler dell'abitazione è chiuso, quindi in tutta casa non c'è acqua calda. Mi sorge una domanda. Chi mai avrebbe desiderato fare un bagno nell'acqua gelida? Ma, come già vi ho detto, la cosa essenziale che manca in questa scena del crimine è il corpo, che per gli agenti della scientifica è importantissimo. La scena del crimine, nonostante ciò, parla. Ed è compito degli agenti evidenziare le anomalie che, in questo caso, sono state notate ed evidenziate. Le indagini partono da un punto fermo sostenuto da due testimonianze. Angela ha fatto entrare qualcuno a casa Luzzati e, poco dopo, si sono sentite le sue urla provenire proprio dall'appartamento. Ma il corpo di Angela viene trovato nella vasca da bagno e già questa, per molti, è un'anomalia. La ragazza non si sarebbe mai fatta il bagno a casa dei suoi datori di lavoro, ma soprattutto mai avrebbe sparso i suoi abiti in casa di altri. Questa stranezza viene notata anche dalla padrona di casa, a Sonia. Sembra strano che Angela abbia lasciato in giro non solo i suoi vestiti, ma anche la sua biancheria intima. Sottolinea che non è mai capitato che Angela si facesse il bagno a casa loro, anche perché la ragazza, molto rispettosa, non osava neanche chiedere di rifarsi il trucco in bagno. Angela nutriva un grande rispetto per la casa e per la famiglia per cui lavorava ed era molto discreta. Questa situazione viene sottolineata anche dal fratello di Angela. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno si apprende che Angela non è morta per un malore e viene aperto un fascicolo per omicidio. La squadra sopra luoghi torna nell'appartamento, ma a quel punto la scena del crimine è gravemente compromessa. Nel frattempo è arrivato anche il marito di Sonia. C'è stato un via vai di gente sul luogo del delitto. Nonostante ciò procedono ugualmente a repertare ciò che trovano. Vengono repertati gli indumenti di Angela sparsi un po' ovunque. Spiccano la maglietta di lana e la camicetta nera bagnate. Un cerotto largo 5 cm e lungo 15 cm, trovato sotto il termosifone in bagno, e delle formazioni pilifere rinvenute per terra in bagno. La scena del crimine risulta compromessa, ma offre ugualmente degli spunti utili per la ricostruzione della morte di Angela Telesca. Gli elementi che rendono plausibile un'aggressione cominciano ad affiorare. Secondo le ricostruzioni, la violenza nell'appartamento si sarebbe protratta per almeno 15 minuti. È quindi probabile che quando le testimoni, attratte dalle urla, sono salite al secondo piano, tutto fosse già successo. E che l'assassino fosse ancora dietro alla porta, aspettando che si liberasse la via di fuga. Gli inquirenti a questo punto cercano di fare chiarezza e si soffermano, in particolare, sul fidanzato di Angela, ossia Nicola. Il fratello della ragazza sostiene che all'inizio sicuramente la ragazza era innamorata. Con gli anni, però, l'amore si è trasformato in tristezza. È vero, Angela era triste, ma non aveva spiegato in famiglia cosa fosse dovuta questa tristezza. Sua mamma spesso le faceva domande, le chiedeva perché fosse così abbattuta, ma Angela non aveva mai dato spiegazioni. Anzi, a dirla tutta rispondeva che quelli erano fatti suoi e del suo fidanzato, e quindi di starne fuori. Parte di queste risposte, però, sono custodite nel diario di Angela, in cui si legge. Mi sento tremendamente triste, arrivo a casa, neppure mia madre si accorge della mia tristezza. Riesce solo a vedere i miei stivali neri un po' bagnati, i miei capelli umidi, ma non il mio volto bagnato di lacrime. Ma soprattutto, scrive di Nicola il suo fidanzato e, in breve tempo, si può arrivare a comprendere da cosa dipenda la sua tristezza. Caro amore, oggi è stata una giornata molto triste per me, visto che mi hai tolto un piacere, quello di truccarmi. Secondo me stai sbagliando, perché mi vieti tutte queste cose? Eppure non c'è niente di male. Nicola, a quanto pare, voleva sposarsi e forse Angela non era ancora della stessa idea, in quanto era molto giovane. Poi scrive ancora. Caro Nico, innanzitutto voglio chiederti scusa per tutte le volte che, secondo te, mi sono comportata male. Mi dici sempre che sono una che non sa fare niente, che mi vesto male. Mi hai fatta cambiare in un modo che non mi riconosco più. Ho fatto tanti sbagli nei miei vent'anni, ma non lascerò che qualcuno rovini la mia vita. Un giorno o l'altro sono quasi certa che mi stancherò, ma tu non soffrirai molto perché te ne freghi. Ad Angela piaceva ballare, ma quando Nicola è entrato nella sua vita ha dovuto mettere da parte questo hobby. Non usciva neanche più con le sue amiche perché il ragazzo era geloso. E infatti, di nuovo è possibile leggere nel suo diario. Sì, sono felice di aver trascorso due giornate senza litigi con Nico. In questi due giorni non è che sia successo niente di eccezionale, ma solo il fatto che non abbiamo litigato mi fa impazzire di felicità. Tu sei molto orgoglioso e anche molto testardo, ma spero in parte di farti capire certe cose. Ti capisco, tu sei geloso, ma io non dispero per questo, anzi ne sono fiera. Solo che questa gelosia può diventare assillante. È chiaro che Angela non aveva affatto una relazione equilibrata con questo ragazzo. Sua mamma e suo fratello si dicono sicuri che i due litigassero per colpa della gelosia di Nicola, visti gli scritti della ragazza nel suo diario. L'ipotesi che Angela possa aver incontrato il suo fidanzato la mattina del 14 novembre viene accuratamente vagliata. Risulta però che quel giorno Nicola è andato normalmente a lavorare. Molte deposizioni lo confermano. Era il primo giorno di servizio in una nuova sede. Quindi il fidanzato di Angela ha un alibi. Nei giorni successivi arrivano i risultati dell'autopsia. La ragazza è morta per asfissia da annegamento ed emergono ulteriori elementi riguardo l'aggressione. Sul corpo sono presenti escoriazioni alla superficie dorsale del torace e ai gomiti, come se questa persona si fosse contusa in queste parti. Gli inquirenti ipotizzano quindi che il corpo di Angela sia stato compresso da un aggressore su una qualche superficie. In questo caso, però, queste escoriazioni avrebbero dovuto essere presenti anche sul volto, sul collo, sul petto, ma non ci sono. I segni contusivi presenti sul viso risultano talmente esigui da rimanere privi di rilievo. Risulta difficile pensare che una donna di vent'anni nel pieno della salute si tolga volontariamente la vita all'interno della vasca da bagno senza assumere medicinali o sostanze. Inoltre, il medico di famiglia di Angela afferma che la ragazza non presentava alcun tipo di patologia. Infatti, l'esame tossicologico ha escluso l'assunzione di sostanze alcolici. Pertanto, Angela, al momento della morte, era lucida. Il quadro lesivo sul corpo di Angela è lieve, seppur particolare. Sono state riscontrate sia delle chimosi che delle escoriazioni in zone simmetriche del corpo, in particolare sulla zona dorsale, sotto le due scapole e su tutte e due le spalle. Sono state trovate anche delle piccole escoriazioni e delle chimosi nella zona del labbro inferiore vicino al naso e tra lo zigomo e l'orecchio. Queste tracce potrebbero portare a un tentativo di soffocamento, seppur lieve, ma comunque presente. Nella zona radiale del braccio, ossia la zona dei polsi, viene riscontrata una sostanza di tipo grigiastro, appiccicosa al tatto, come per apposizione di un cerotto, ma non c'erano pregresse e lesioni, quindi quel cerotto non è stato usato per coprire una ferita. Per l'ora del decesso bisogna basarsi sulle dichiarazioni della signora intervenuta per prima e di chi la soccorsa. Sonia Luzzate riferisce di aver trovato Angela fredda. Il corpo però non era rigido e non sono state notate le macchie ipostatiche che quando si formano indicano la posizione in cui è stato trovato il corpo. Normalmente iniziano a comparire una o due ore dopo la morte, ma si presentano ancora tenui, parse e di colore rosa pallido. Si rendono più evidenti dopo circa tre ore, raggiungendo la massima estensione ed intensità dopo circa 12-18 ore. In questo caso, il sangue di Angela, in sede di autopsia, viene trovato fluido e le macchie ipostatiche si sarebbero dovute formare subito dopo la morte. La fluidità del sangue porta alla conclusione che Angela sia morta rapidamente. Poi ci sono le testimonianze dei vicini che sostengono di averla sentita parlare verso le 11. Quindi la morte potrebbe essere avvenuta non troppo tempo dopo questo orario, impossibile essere più precisi. Una sicurezza c'è. Quella mattina Angela non era sola in quell'appartamento. Ha aperto indubbiamente lei all'aggressore. A questo punto è necessario analizzare le possibili dinamiche dell'omicidio sulla base di ciò che suggerisce lo stato della scena del crimine e sulla base di ciò che ha portato alla luce l'esame autoptico. Nuovamente è necessario basarsi sulle informazioni rese dai vicini di casa per quanto riguarda gli ultimi momenti di vita di Angela. Qualcuno aveva citofonato e una vicina aveva sentito Angela affacciarsi alla finestra della cucina per invitare la persona a salire. La ragazza quindi probabilmente va dalla cucina al corridoio, apre al suo ospite e poi fa la strada inversa e torna in cucina. Questo viene dedotto grazie agli accertamenti svolti dalla polizia, in particolare una prova audiometrica per capire da quale punto dell'appartamento dei Luzzati provenissero le urla sentite dalla vicina. Dal momento che l'appartamento è speculare a quello sotto viene stabilito che molto probabilmente le urla venissero dalla cucina e da questa stanza parte la ricostruzione. Angela è corsa verso la camera da letto, verosimilmente per scappare dalla lite che si era creata. Lo si può dedurre anche da quel segno presente sul muro del corridoio, quasi vicino alla porta d'ingresso. Si sa che un guanto era stato lasciato da Angela sul tavolo della cucina, quindi è possibile che l'altro fosse ancora alla mano della ragazza. Il secondo guanto viene poi ritrovato nel bagno dove si è svolta la parte finale dell'azione. Quindi Angela quasi sicuramente ha cercato rifugio nella camera da letto, anche perché un pezzo dell'orecchino della ragazza è stato proprio ritrovato sul letto. L'altra parte dell'orecchino è stata trovata in bagno. C'erano dei segni sul letto, probabilmente dei segni di scarpa, come se Angela l'avesse scavalcato per scappare. In base al quadro lesivo trovato sul corpo della ragazza, è possibile affermare che probabilmente è avvenuta una colluttazione non troppo violenta. Si può dedurre che in qualche modo Angela fosse in uno stato di inferiorità, probabilmente inerme. Quando Angela è stata annegata all'interno della vasca, era vestita. Lo provano gli indumenti ritrovati all'interno del bagno, che erano zuppi di acqua. Nelle fasi di ricostruzione della dinamica, un altro elemento importante su cui ragionare è il cerotto ritrovato sotto il calorifero del bagno. Ci sono segni di adesivo sul polso di Angela, quindi è possibile immaginare una costrizione che però non è stata molto combattuta da lei, come se la ragazza fosse svenuta. La scena del crimine è senza dubbio stata manomessa, in primis dall'assassino. Angela è annegata, ma è stata trovata appoggiata alla vasca da bagno con il viso fuori dall'acqua, come se il colpevole l'avesse posizionata in modo composto. Chi è che può aver sentito la necessità di preparare una messa in scena per far credere che la ragazza avesse avuto un malore mentre faceva il bagno? Questa anomalia rientra in quello che viene chiamato staging, termine che indica tutte quelle attività che vengono svolte da chi vuole fare credere qualcosa agli investigatori o a chi arriva sulla scena del diritto. In questo caso, non tanto per depistare le indagini, ma per creare il dubbio che Angela fosse morta per cause naturali. Infine, la presenza del cerotto stona con qualsiasi situazione di normalità e di soccorso. Quel cerotto non riesce ad essere inserito nella scena del crimine con logicità. Avrebbe avuto ragione di esistere se la ragazza avesse avuto tagli o ferite, ma non li aveva. Le indagini proseguono con la certezza che si tratti di omicidio. Infatti, l'ipotesi del malore viene accantonata, anche se Nicola, il fidanzato, racconta agli investigatori che la ragazza possedeva un libro di medicina e che consultava spesso le parti riguardanti l'epilessia e le convulsioni. Il ragazzo racconta anche agli inquirenti che un parente di Angela un giorno si è allontanato da tavola dicendo di sentirsi male e che altri membri della famiglia lo hanno ritrovato nudo, senza vita, proprio nella vasca da bagno. Sottolineiamo però che questo episodio è negato da tutti i familiari di Angela interrogati dalla polizia. Chi ha raccontato a Nicola di quella morte stranamente simile a quella di Angela? Si tratta effettivamente di un racconto o si è inventato tutto lui? Angela aveva scritto altre situazioni avvenute con Nicola nel suo diario. Una sera abbiamo litigato molto forte. Lui mi ha tirato uno schiaffone di quelli proprio forti ed io, come una cretina, mi sono messa a piangere. E lui dopo un po' mi ha detto Che cazzo ti piangi, cretina? Sono le sue parole ed è stato lì che ho aperto la porta della macchina e me ne sono andata. Solo che avevo molta paura di camminare da sola per quella strada buia. Dopo un po' arriva lui e mi dice Sali Io sono salita, solo perché avevo una fifa tremenda. Ma se era giorno, sono sicura che me ne sarei andata. Io mi chiedo sempre chi cavolo si crede di essere questo individuo. Nemmeno mio padre mi ha mai alzato le mani e me le deve alzare lui? No caro, hai sbagliato persona. Non sono la tipica ragazza che si lascia alzare le mani senza reagire. Lui, in un momento di rabbia, mi ha presa per il collo, come quando si strozza qualcuno. Mi ha sbattuta sul letto, come fossi stata una cosa che a lui faceva schifo. Infatti sono scoppiata a piangere. È tutto il giorno che penso a quello che mi ha fatto ed è terribile solo a pensarci. Ogni volta piango, piango, piango. Sulla scena del crimine sono state rilevate diverse impronte e sono stati sequestrati vari reperti. Per quanto riguarda le impronte, sono state evidenziate su un tavolino con la superficie di vetro che si trova nel salone. Sono state confrontate per l'esclusione con quelle degli operatori intervenuti sulla scena del crimine e con quelle del fidanzato di Angela e hanno dato esito negativo. Bisogna però dire che queste impronte, per come è stata ricostruita la dinamica dei fatti, sono pressoché inutili. Sembra che il salone non sia stata una zona interessata nelle fasi dell'omicidio. I reperti interessanti sono stati acquisiti in sede di sopralluogo all'interno del bagno, delle formazioni pilifere, dei capelli e il cerotto. Per quanto riguarda le formazioni pilifere è stata fatta un'analisi tricologica per determinare se i capelli fossero di Angela e, in effetti, appartenevano proprio a lei. Sul cerotto invece sono state fatte altre indagini. Prima di tutto, di tipo investigativo, per capire quali fossero i venditori che avevano in commercio questa tipologia di cerotti. Si tratta di un'analisi merciologica, quindi, tra quelli che sono stati individuati in vendita e quello poi rinvenuto sulla scena del crimine. Questo cerotto è importante dal punto di vista della dinamica, perché dagli esiti autoptici si sa che Angela aveva tracce di adesivo sui polsi. È verosimile che lei sia stata legata con questo cerotto e sia stata slegata una volta nella vasca da bagno, motivo per cui il cerotto è stato ritrovato proprio in bagno, sotto il termosifone. All'epoca, per fare un'analisi del DNA, servivano grandi quantità di materiale, quindi in realtà viene fatta una pierizia per stabilire il gruppo sanguigno che risulta essere proprio quello di Angela. Oggi, se ci fosse ancora questo reperto, si potrebbe fare molto di più, ovviamente. Ma come in molti casi datati, ormai non si sa che fine abbiano fatto questi oggetti, in particolare il cerotto. All'epoca, perizie e consulenze venivano spesso affidate a privati. Oggi, invece, chiaramente diverso, le forze di polizia hanno in qualche modo assorbito all'interno figure scientifiche e professionali. Pertanto, le attività di analisi ora sono eseguite dai reparti specializzati della polizia, perché hanno un iter di ingresso e di uscita dei reperti tracciabile. In passato, le analisi venivano affidate a privati e talvolta i reperti non venivano restituiti agli uffici. Potevano anche venire distrutti. È importante, in casi come questo, rimasti risolti, poter riprendere possesso dei reperti per poter fare ulteriori analisi. Purtroppo risulta molto difficile riuscire a riottenere questi oggetti e per questo motivo la morte di Angela continua a rimanere senza colpevole. Detto questo, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate questo caso e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate. perché, dalle fonti che ho trovato io, sembra che gli inquirenti abbiano indagato solo sul fidanzato di Angela. È pur vero che non è emerso nessun altro soggetto che faceva parte della vita della ragazza, magari un po' strano o cose di questo genere. Quindi, per quanto mi riguarda, anche ipotizzare chi potrebbe essere il colpevole è davvero, davvero difficile per me. Io direi che l'ipotesi più ovvia è il fidanzato di Angela, ormai ex fidanzato, il fidanzato dell'epoca di Angela. Ma aveva un alibi. E quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, perché per me questo caso è davvero un grandissimo punto di domanda. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!